Ciao a tutti e ciao a tutte! Oggi video del catalogo Tenerezza Avon, è il catalogo casa dove abbiamo tutta la biancheria che appunto Avon ci propone per questa primavera estate 2017. Il catalogo è molto bello, io ovviamente l'ho già sfogliato più volte e abbiamo all'inizio questa bellissima tovaglia nei toni del blu e del verde. Si chiama Estive e Fervescenze, è una tovaglia a 6 posti e misura 135 x 180 cm e costa 35 euro e io trovo essere molto molto bella. Poi abbiamo la prima parure per quanto riguarda il letto matrimoniale che si chiama Giardino di Primavera. Il completo letto costa 85 euro ed è formato dal lenzuolo sopra al lenzuolo sotto le due federe e il trapuntino matrimoniale 135 euro. Sui cuscini vedete c'è la scritta Sei il più bel fiore del mio giardino. Anche questo è molto molto carino sullo stile romantico. Poi abbiamo quest'altra parure formata da un lenzuolo grigio e giallo, sui toni del grigio e del giallo, più particolare. Questa si chiama Emozioni e il set completo letto con copriletto compreso 120 euro. Ricordo che le parure prevedono sempre il lenzuolo sopra e il lenzuolo sotto e in questo caso abbiamo anche il copriletto. Poi abbiamo questa altra parure molto molto bella che è l'unica che prevede anche il set completo per il letto singolo. Allora, vediamo il matrimoniale, set completo letto con copriletto costa 120 euro, mentre per il lettino singolo 82 euro. E' un peccato perché su questo album nuovo abbiamo solo questo per quanto riguarda il lettino singolo. Poi abbiamo quest'altra parure che si chiama coralli, fluttuanti coralli, è formata dal completo letto con lenzuolo copriletto. In questo caso è lenzuolo che si mette, cioè anche il risvolto è doppio così almeno è sempre bello da vedere. Vedete, è ricamato sopra ed è ricamato anche il risvolto. Quando si gira non rimane la parte sotto brutta, costa 85 euro. E poi abbiamo anche il set spugno formato da un asciugamano normale 50% e un asciugamano ospiti 30x50 a 17,50 euro, che è questo qui. Così se si vuole fare tutto il corredo c'è tutto. Poi abbiamo quest'altra parure nei toni dell'azzurro, il canto del mare si sente nel cuore. È molto bellina anche lei. Abbiamo sempre il lenzuolo copriletto matrimoniale e costa 85 euro e le spugne, il set spugne da 17,50 euro. Poi abbiamo due parure con i fiori, questo con le margherite e questo invece con le calle. Entrambi costano 80 euro e sono completi letto matrimoniali che prevedono appunto lenzuolo sotto, lenzuolo sopra e le due federe. Poi abbiamo questo un pochino più particolare, almeno per quanto riguarda i miei gusti, amore e psiche si chiama e prevede il completo letto matrimoniale 80 euro e il trapuntino matrimoniale 130 euro. Il trapuntino misura 260 per 270, ve lo dico io perché non si legge molto bene, le paroline in piccolo non si vedono molto bene. Poi abbiamo questa parure che si chiama eleganza, eccola qui, prevede il completo letto da 85 euro e il copriletto, che non è un trapuntino ma è solo un copriletto, 150 euro. È in cotone 100% anche il copriletto. Poi abbiamo questo completo letto sui toni dell'azzurro con i volant, come vedete. Si chiama romantico chic, il completo letto costa 100 euro e il trapuntino 120 euro. Questa fa parte della collezione prestigio. E un'ultima pagina, abbiamo quest'altro completo ultra chic, che prevede invece il pizzo, come vedete qua sulla parte finale del lenzuolo. Completo letto con applicazione in pizzo 100 euro. Il copriletto matrimoniale, che è in questo caso 80% cotone e 20% pes, non so cosa sia, 85 euro. E poi anche le spugne, che sono queste, molto belle anche loro, sempre a 17,50 euro. Le misure sono sempre uguali a quelle che vi ho detto prima. E in ultima pagina troviamo 150 x 50 cm l'uno. Ecco, questo è tutto il catalogo. Trovo che sia veramente molto, molto bello. Come sapete, la biancheria Avon ha un costo abbastanza elevato, veramente tutte le persone che ho sentito e hanno acquistato la biancheria Avon, ma è compresa, sono veramente ottimi. Si lavano, si stralavano e resistono veramente tanto. Questo è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 !